allora salve ragazzi vendo anfibi vendo anfibi marca undercover numero 44 sono anfibi militari questi qua sono con il cararmato ma siamo vedo che c'è il cararmato sotto questi ragazzi praticamente l'ho usati solamente una volta ma sono immacolati probabilmente nuovi marca undercover numero 44 l'altezza da qui è l'altezza dello stivale è 33 cm c'è parecchi buchi parecchi potete allacciarli fino fino a qui ma sono nuovi vedete adesso ve lo faccio vedere numero 44 sono under core sotto fanno le viti così hanno il carammato numero 44 ripeto anfibi undercover marca undercover di pelle li vendo a soli 50 euro ragazzi contattatemi perché sono veramente belle 50 euro ragazzi sono veramente belle 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 50 euro ragazzi ripeto marca undercover taglia 44 faccio spedizioni e faccio la spedizione ragazzi contattatemi 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 anfibi undercover ve le rifaccio vedere undercover sotto c'è il cararmato ci sono le viti questo è questa è una scarpa che è proprio fatta apposta così è marca undercover non so se si riesce a leggere comunque la marca è undercover perché è scritto piccolo sotto e non si legge tanto bene comunque la marca è undercover potete anche andare a guardare su google ragazzi 50 euro tutti e due ragazzi contattatemi contattatemi sono bellissime 50 euro e vi ripeto che probabilmente l'ho usati solamente una volta per provarli quindi sono immacolate delle pulite con il cararmato sotto altezza 33 centimetri ragazzi per chi fosse interessato eccole qua paglio vendendo paglio di stivali anfibi scusate questi sono anfibi nostri vabbè sono a forma di stivale sono proprio sono proprio fatto apposta così anfibio anfibio stivale proprio proprio quelli militari quelli veri marco originale undercover guardate come sono belle sono solo 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 che solamente l'ho usati solamente per provarli è di queste qui li vendo perché non li metto più taglia 44 taglia 44 e taglia 44 ragazzi allora vi lascio il mio numero di cellulare sotto al video contattatemi anche su whatsapp faccio la spedizione con i imposti pay per chi fosse interessato vi lascio il numero di cellulare qua sotto questo è tutto ragazzi anfibi undercover ciao alla prossima